La giunta regionale presieduta da Rosario Crocetta ha nominato diversi manager della sanità. Al Policlinico di Catania, Giampiero Bonaccorsi, attuale commissario straordinario ed ex direttore amministrativo. Giovanna Fidelio dirigerà l'ASP di Enna. Francesco Garufi andrà al Canizzaro di Catania, succede al commissario straordinario Paolo Cantaro. E Ida Grossi lascerà, dopo pochi mesi, l'ASP di Caltanissetta per guidare quella di Catania. Nell'azienda Nissena il ruolo di direttore generale sarà ricoperto da Carmelo Iacono, già direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia dell'ASP di Ragusa.